Secondo me è un po' tutte e due, loro hanno iniziato la partita nel miglior modo, hanno subito preso un gap e non siamo riusciti a chiuderlo. Il secondo set siamo state brave noi, lo sappiamo che contro Ponelliano dobbiamo tirare fuori il 100% e che comunque anche con il 100% diventa una partita difficile come è stata oggi. Si riparte domani, domani iniziamo di nuovo a allenarci per la partita di domenica contro Perugia e da lì si riparte, comunque sapevamo che oggi sarebbe stato difficile però non abbiamo tempo per riposarci, per calare e quindi andiamo avanti.